3 quarti down beat, 3 movimenti su 4 quarti, il 3 è un accento verso il basso, quindi avremo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Questo movimento deve rimanere comunque sempre fluido. Abbiamo sul 3 un accento e i due movimenti intermedi, che sono appunto sull'1 e il 2, devono essere fluidi, morbidi e più piccoli. Questo sarebbe un 4 quarti. Se io su questo aggiungo una pausa sul 3, farò un 3 quarti. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 più veloce 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, acceleriamo 5, 6, 7 e 1 provatelo anche in relevé 1, 2, 3 1, 2, 3 Grazie a tutti.